Sapevate che con le fette biscottate si possono creare dolci magnifici? Prendete il latte zimil, il cacao amaro, mischiatelo. Dopodiché bagnate le fette biscottate dentro al latte col cacao e mettetele in una ciotola, 4 a testa. Compattatele per bene per tutti i bordi. Dopodiché prendete lo yogurt greco, mettete lo sciroppo d'acelo, mescolate e mettetelo dentro le coppette. Spalmate bene e poi richiudete i bordi. Non devono essere chiusi fino al centro, dopodiché mettetele in frigo per 5 ore o per tutta la notte è meglio. Poi prendete la coppetta, rovesciatela su un piatto e spolverate con il cacao amaro. Ecco qua la nostra fette ciocche con sorpresa è pronta. Le dosi sono per due persone, mangia bene e mangia salutare.